Ancora un lutto colpisce la trasmissione di Masterchef che con un post su Twitter ha annunciato la morte di Anna Martelli, la nota concorrente dell'ottava edizione. Con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo maciste. Questo il tweet della pagina ufficiale di Masterchef Italia. Anna era legatissima al marito di 9 anni più grande di lei che aveva perso solo due anni prima per una brutta malattia. Quando dovette lasciare il programma esclamò, lascio ma con tanta felicità nel cuore. Le sue parole commossero lo chef Locatelli che disse, il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere un po' anche sopra le righe ha portato un sacco di allegria. E in te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non troviamo neanche nei più giovani. Grazie a tutti.